Allora darei la parola a Claudio Bianchi che farà, tirerà poi in conclusione, Claudio Bianchi è presidente dell'Office Esercenti Metropolitana di Firenze e quindi il diretto referente del progetto. Unisco ai ringraziamenti precedenti, soprattutto ai sindaci presenti, all'amministrazione di Guarrati, ai sindaci di verti, a scala di promozione, all'amministrazione, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile e vi ringrazio per la sensibilità e per il nostro territorio della nostra meravigliosa provincia e meravigliosa regione, ma quelli più di tutti da ringraziare sono le aziende, le aziende che tanta passione mettono nel loro lavoro che garantiscano l'identità di un territorio con la coltivazione di questi prodotti, con la creazione di questi marchi e grazie ai maestri che oggi ci faranno vedere quelle che sono le specificità di questo territorio, a rappresentare lo stile di vita che ci rappresenta. Oggi il turismo che sarà più importante è il turismo esperienziale che farà conoscere quei luoghi e quei territori che hanno anche uno stile di vita diverso da quelle che sono i grandi movimenti turistici di massa. Ecco, questo è un territorio che sicuramente ha qualcosa da dire, qualcosa da raccontare e che sarà molto importante quello che sarà lo sviluppo del territorio futuro. Poi permettetemi di ringraziare anche un po' in casa, di ringraziare la Presidente del Centro Commerciale Naturale, Beatrice Lieghi, che tanto si spende quotidianamente per tutte le attività di questo territorio e di ringraziare anche i miei uomini, le confesercenti Martina, Riccardo, Letizia, che tanto si sono impegnati per questo evento. Grazie veramente, confesercenti sarà sempre il vostro piatto. Grazie. Grazie.